Buon dizionario! Allora, diciamo che stasera avremo un ospite veramente che arriva da una trasmissione, cioè che c'è ancora di questa trasmissione, diciamo, veramente, guarda, tu cosa ne vuoi sapere di questa trasmissione? Tu l'hai mai visto il grande fratello? Eh? Capra, capra, capra! Eh? L'hai mai visto? Scusate, è intervenuto un attimo, perché è veramente un ospite di questa trasmissione, appunto, e dico io adesso, dico, diciamo, dopo questo intervento, che sta arrivando, eh? Sta arrivando davvero, e proprio di questa trasmissione che c'è adesso, che sta andando da mesi in onda. Magari avete capito anche di cosa si tratta. Scusate! 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 di lingua. E allora diciamo che io vi devo sempre ringraziare perché comunque siete fantastici e non aggiungo altro perché vi ringrazio. Grazie e ci vediamo la prossima puntata. Però vorrei fare una domanda. Avete scoperto che personaggio è e di che trasmissione si tratta? Ciao!